Ok, credo di essere online, come diceva la Esmeralda, che poi è un'amica da sette anni a questa parte, che ringrazio per darmi una mano con la tecnica, di cui io sono completamente negata. Io sono Chiara, mi avete visto in qualche slot con Sara Zanardo, in una tavola rotonda. Sempre nel gruppo cinema, sono una sceneggiatrice. Questa sera ho deciso di parlare di un argomento che ovviamente mi sta molto a cuore, che è il rapporto fra le città e la loro rappresentazione nel cinema. Idealmente questo dovrebbe essere un primo intervento. Ciao Natalia, grazie di ascoltare i miei deliri, le mie idee deliranti. In questo primo intervento parlerò della città più cinematografica del mondo. una cosa che magari molti quelli che mi vedranno penseranno piuttosto facile, perché il 70% dei film credo sia stato girato a New York. Però voglio parlare di New York per diverse motivazioni. Sicuramente la prima è personale, perché ci ho vissuto in vari momenti della mia esistenza. Mi si sente molto bene. Non ultimo prima di questa pandemia, per brevi periodi, però l'ho molto amata e per me è un posto del cuore. Essendoci andata poi a studiare cinema, ovviamente per me il ricordo è indissolubile con il cinema. Il legame indissolubile con il cinema. Ed è la città che se voi la visitate, se qualcuno che guarderà questo slot l'ha visitata, vi sembrerà di averla già vista. Perché è una città che è stata appunto, voi avrete la sensazione già di averla visitata. Io ho scelto pochi film, ovviamente, di cui cercherò di dare dei piccoli highlight, perché il tempo è poco e sarà pochissimo, ne sono convinta. Però ho scelto dei film che rappresentano New York come l'ho vissuta io in qualche modo, che la rappresentano per me, dei film di registi cult. Ciao Gianluca. Magari non saranno sorprese, però per me tracciano un percorso ideale nella geografia della città, diciamo, sociale e urbana. Il primo film che ho scelto è un film che è uscito nel 1968 ed è un film, come si direbbe appunto in inglese, Cursed. Cioè è un film sostanzialmente maledetto, ma perché ha un forte legame con un aspetto di New York che non è l'aspetto, diciamo, che è più visto, diciamo, si è più visto nel cinema, che è l'aspetto più, diciamo, da Woody Allen, che pur amandolo ho deciso di non scegliere. Quindi non l'aspetto più solare, ma l'aspetto, diciamo, più dark della città, che è talmente, come dire, multiforme, che chiaramente comprende un po' tutto, quello che è tutta l'esperienza umana, nel 1968 esce un film di Roman Polanski che si intitola Rosemary's Baby, che ovviamente avrete, immagino, tutti visto e che ha un, diciamo, trascorso particolare perché si ispira a un romanzo di un certo Ira Levin, uno scrittore ebreo, che decide fondamentalmente di raccontare una storia di maternità mischiandola con il demonio, quindi mischiando, diciamo, il mito della natività con il mito della caduta degli angeli, quindi, insomma, del diavolo. In pratica, cosa succede in questo film? Beh, innanzitutto, parlando dell'ambientazione, è ambientato in una palazzina, per la maggior parte, in una palazzina che si trova nell'upper west side, che è una palazzina gotica, di cui se io riesco a fare share screen, che per me è un'operazione complicatissima, vi farò anche vedere. Ok, dovrei potercela fare. Questa palazzina, che non so se vedete, ma forse no, no, perché non so cosa ho condiviso, share. Boh, bene, non ce la posso fare, di questo mi scuserete, o forse arriverà il mio aiuto esmeralda, comunque proverò anche a condividervela dopo, visto che ho scaricato tutte le immagini del location. Comunque è ambientato in una palazzina gotica nell'upper west side, che se qualcuno conosce New York è una zona, diciamo, piuttosto elegante della città, dove si trasferisce questa coppia. Grazie Stella, amica e conquilina ormai di lungo corso, però io non trovo aggiungere lo streaming, ragazzi, che ti devo dire. Sure, ok, forse ce l'ho fatta, fantastico. Dovreste vedere una palazzina, appunto, con la caratteristica tetto a punta delle favole nere, che si trova, appunto, nell'upper west, dove va a trasferirsi questa coppia, che nella finzione, appunto, sono Mia Farrow e John Cassavetes. Una coppia appena sposata, lui è un attore, diciamo, non particolarmente affermato e lei è appena sposata con lui e di lì a poco, diciamo, si scoprirà incinta. Nella loro casa, nella loro quotidianità, in questo nuovo appartamento, che gli verrà detto pure è Yeah, ce l'ho fatta, e gli verrà pure detto da un loro intimo amico che è un appartamento dove si era tolta la vita la vecchia proprietaria, quindi è già un appartamento maledetto, conosceranno i vicini di casa, che sono una coppia di persone, diciamo, un po' più anziane, piuttosto particolari, che subito, i Cassavetes si chiamano, se non sbaglio, subito cercheranno un'amicizia, diciamo, anche molto insistente, un po' morbosa con i due coniugi. Ma laddove il marito, diciamo, è estremamente accogliente, la moglie non riesce, insomma, in qualche modo a fidarsi mai in fondo di questi coniugi. Per farla breve, si scopre che lei, durante la sua gravidanza, cioè nella sua, appunto, gravidanza, scopre poco a poco che sta allevando sostanzialmente un figlio del demonio e che il marito ha in qualche modo deciso di vendere questa sua nuova vita a un gruppo di satanissi per ottenere il successo professionale. Quindi, chiaramente, si gioca in questo film su più livelli, soprattutto poi su quello del successo e della vendita della propria anima per il successo personale. Chiaramente, la cosa interessante è che questo film viene realizzato in anni abbastanza particolari, alla fine degli anni Sessanta. Era molto di moda in qualche modo, visto che erano gli anni del movimento hippie, l'occulto, il satanismo, l'anno successivo verrà fondata la Chieda di Satana a San Francisco. Quindi, diciamo, questa moda era ampiamente poi cavalcata a quella di perseguire l'esoterismo da anche diverse sette e da quella di Manson poi. Quindi, diciamo, poi Polanski era discreto appassionato di questi argomenti che purtroppo gli si sono rivoltati completamente contro. Altra cosa interessante di questo film è che è vero che è appunto ambientato la maggior parte del tempo in casa, in questa palazzina, però quello che coglie di New York è più lo spirito che, diciamo, la geografia, come magari altri film che ho scelto e di cui vi parlerò dopo. La cosa, insomma, diciamo, un po' curiosa è che è un film maledetto perché? Perché ha creato intanto due morti nella sua storia, il produttore e il musicista, sono morti in circostanze misteriose. È stato un film particolarmente acclamato di Polanski che però, insomma, di lì a poco stava vivendo la sua fase, diciamo, di massimo successo ma di lì a poco si sarebbe poi trovato con la moglie pugnalata, incinta e quindi questo è, diciamo, quasi una specie di premonizione. Questo è, diciamo, Rosemary's Baby e sono gli anni 60, quasi anni 70. Il secondo film che ho scelto, diciamo, fa un salto di una decade, in qualche modo e arriva agli anni 80, diciamo, arrivano gli anni 80, gli anni 80 chiaramente cambiano la fisionomia della città, sì, Rosemary's Baby, si parlava di Rosemary's Baby, cambiano la fisionomia della città e quindi anche, diciamo, la distribuzione dei quartieri e come sono vissuti dalle persone. In particolare, io ho scelto questo film che ho, devo dire, colpevolmente visto molto di recente ma che mi ha totalmente stregato ed è un film di Scorsese, grandissimo, regista noi orchese che però è considerato uno dei film minori in qualche modo del regista perché non è, non ha, diciamo, l'epica caratteristica di Scorsese, un film completamente surreale che è stato paragonato a una novella di cacca. Il film è del 1985 ed è fuori orario, after hours in inglese, after hours in inglese. Un film che invece è girato in tutta altra ambientazione, in tutta altra zona, in una zona che è, adesso è, diciamo, ultra gentrificata ed è una delle zone più costose di New York, che all'epoca era ancora una zona, diciamo, underground che è Soho. Soho si trova a Midtown, ora ve la faccio vedere, o comunque vi faccio vedere qualcosa delle location, quindi, diciamo, nel, nel mezzo della città, Midtown è il centro, è considerato il centro, e all'epoca era una zona molto, in qualche modo, sporca, una zona amata dagli artisti, perché sostanzialmente molto, scusatevelo, ovviamente cancellata subito, ce la posso fare, perché è una zona dove gli affitti costavano pochissimo. e questo, diciamo, cosa c'entra con la storia? C'entra nel momento in cui il protagonista, che è un informatico, un informatico piuttosto timido che vive nell'upper east side, quindi nella zona più posh di New York, adesso praticamente inarrivabile, che per un incontro fatale con una ragazza che trova in un caffè a leggere, diciamo, un libro tropico del cancro, tra l'altro, che leggeva anche lui, decide, insomma, in qualche modo, lei gli dà un appuntamento per la sera successiva e decide di, io nel frattempo sto smanettando su sto coso, ma ce la farò, decide di, ecco, ce l'ho fatta, decide di seguirla in questo appuntamento e dà un appuntamento con la scusa di vendere, insomma, vendere delle opere d'arte della sua coinquilina in un megaloft di Soho che è, diciamo, dall'esterno questo, purtroppo non sono riuscita a recuperare, non ci sono delle immagini dell'interno, però immaginatelo come un enorme loft d'artista che anche adesso va molto, in qualche modo, come location o come, insomma, no, co-working. si ritrova però in questa casa in una sorta di date completamente assurdo dove con lei poi non si trova a suo agio e non nasce niente, nemmeno, insomma, del sesso, non nasce praticamente niente, si ritrova in una serie di, dall'incontro con questa ragazza, si ritrova in una serie di condizioni sempre più assurde. La cosa interessante di questo film che è difficile da raccontare, forse il più difficile di tutti è che rispetto agli altri film di Scorsese non è un film che, intanto è un film breve, dura un'ora e mezza, un'ora e venti, un'ora e mezza, non, diciamo, non ci racconta l'arco di un personaggio così ampio come siamo abituati a vedere nei film di Scorsese, Paxi Driver, Goodfellas, Casino, è proprio un film giocato sulle coincidenze e sulle trappole. In pratica, la notte di questo povero informatico che è Paul ora vi dico il cognome perché non me lo ricordo più, confesso. Vabbè, l'attore è Dunn, ma non mi ricordo più il suo nome, ce la possiamo fare. Griffin Dunn è l'attore, Paul è il personaggio, non lo ricordo il cognome, Paul Hackett, mi sembra, viene trasportato dalla casa di questa ragazza, di un possibile date, a una serie di incontri, una serie di ambienti notturni della New York degli anni Ottanta che sono una delle rappresentazioni più fedeli che ho visto della vita new yorkese. Lui si ritroverà in un diner aperto tutta la notte, incontrerà Rosa Narket che è una interpeta, una cameriera, diciamo, forse uno degli unici personaggi, unico personaggio insieme al proprietario del bar un po' positivo che cerca in qualche modo di confortarle in una serie di coincidenze che a lui inquietano e da cui non riesce a uscire. Tant'è vero che vedremo appunto questo protagonista scappare nella metropolitana di Spring Street, la notte poi diventa piovosa, per prendere il treno e tornare a casa, non ha abbastanza soldi e non ce la farà. Quindi si ritroverà dal bar alla casa di una cameriera, poi la casa di un'altra cameriera a essere scambiato per un ladro, a essere inseguito da una sorta di appunto dai cittadini del quartiere presi da una sorta di paranoia collettiva e non riuscirà se non insomma spoilerò la fine all'ultimo a rientrare nemmeno a casa ma nel suo ufficio direttamente. Quindi questa è una sorta di sogno giocato su coincidenze, su movimenti particolari, su close up estremi di dettagli, portachiavi, interruttori, serrature che si aprono e tutto giocato su una serie di coincidenze e trappole come insomma avevo letto in un articolo di non lo dico io, lo dice il New Yorker che sicuramente è più autorevole. Forse questa è stata una delle scoperte più dal mio punto di vista più interessanti per New York sicuramente perché è ambientata quasi tutto all'esterno e anche perché ne coglie un'atmosfera che è molto tipica di questa città. Cioè è una città dove onestamente facendosi portare dal flusso possono succedere delle cose completamente impreviste. Ciao Maurizio. E quindi c'è questa insomma da questa idea di New York. Purtroppo non ho trovato grandissime foto di location fuori orario perché ci sono anche molti interni che non sono stati evidentemente non è stato possibile fotografare. proseguendo sempre diciamo cronologicamente arriva per me un film che io considero forse uno dei miei preferiti insieme devo dire anche Rosemary's Baby lo è e passiamo facciamo proprio un salto anche di sia di ambientazione sia di argomento e andiamo a Spike Lee che è insomma regista universalmente conosciuto per le sue tematiche diciamo antiraziali e questo film che è Jungle Fever li affronta ma in un modo completamente diverso da altri suoi film come poteva essere Fa la cosa giusta altro film a cui sono molto legata perché diciamo accanto alle location ci ho proprio vissuto per tre mesi Jungle Fever è la storia c'è anche lì ci sono un po' di immagini perché è girata molto per la strada lì ci spostiamo fra Harlem e Southwest Brooklyn quindi diciamo Harlem gentrificata e una periferia di Brooklyn che è tuttora una periferia non è stata ancora gentrificata vediamo se recuperiamo Jungle Fever ok ci sono 3000 immagini da vedere volendo anche se appunto non so quanto rendano devo dire la verità purtroppo sono cioè rende più vederli questi film e sì questa è una delle strade dove è stato ambientato ma chiaramente non rende in maniera così precisa è una storia d'amore sostanzialmente fra un nero ricco borghese che ce l'ha fatta diciamo a vincere in qualche modo il pregiudizio razziale nei confronti che i bianchi hanno nei suoi confronti è una ragazza italo-americana gli italo-americani sono molto ben rappresentati da Spike Lee che insomma questi due hanno una storia un affaire clandestino all'inizio perché lui è un architetto di un grosso studio lei è la sua segretaria lui è sposato lei è single vive con il padre con i fratelli di cui si occupa diciamo come se ne occupava la madre morta come una brava figlia casta e attenta alla famiglia italiana proprio ma lei soffre soffre di stare in un soborgo soffre quel tipo di vita e si innamora dell'architetto realizzato questo romance non va a buon fine nel senso che viene addirittura vissuto perché lui lascia la moglie flipper che è Wesley Snipes lascia la moglie per questa Angie Tucci che è come attrice ora ve lo dico perché ogni tanto mi dimentico i nomi Annabella Sciorra quindi insomma un'altra italo-americana lascia la moglie per andare a vivere con lei nel East Village che all'epoca appunto era ancora poi ne parleremo non so se la faremo mai ma ne parleremo brevemente era ancora un quartiere diciamo un po' malfamato adesso è prezzolatissimo vanno a vivere in questa casa ma diciamo la relazione non funziona perché non funziona perché si accorgono che hanno vivono un po' nel mito della dello sfidare le leggi razzei nel mito nella fantasia della donna bianca con l'uomo nero è proprio una fantasia tra l'altro lei prima aveva una relazione con un giovanissimo John Turturro giovanissimo delicatissimo italo-americano che anche lui aspira a uscire da quel suborgo di Brooklyn ma non è abbastanza per lei è un suo pari è modesto di famiglia lei cerca in qualche modo il salto anche lui è un personaggio interessante perché viceversa è appunto aperto anche lui al confronto con il mondo afroamericano che è diciamo il tema principale sia praticamente in tutti i film di Spike Lee ma anche in questo la cosa interessante è che lui lo mischia al romance e anche al discorso della droga a cui non si era occupato in do the right thing ed è stato accusato di questo perché chiaramente il consumo di droga lo spaccio e la dipendenza era in quegli anni diciamo il problema principale della città e lui lo fa entrare proprio nel personaggio del fratello di Wesley Snipes che è un crack addicted ed è un po' l'alimento disturbante che gli ricorda poi quelle origini da cui forse non riesce neanche mai ad emanciparsi insomma il film è ambientato in dei soborri sostanzialmente si vede Manhattan il centro di Manhattan in town giusto negli interni del studio d'architettura dove lavora lui e è interessante perché descrive la dinamica di due periferie che sono molto diverse fra loro io devo per forza correre perché di Jungle Fever soprattutto ne avrei molto da dire ma non si può quindi acceleriamo e andiamo agli anni 90 gli anni 90 che hanno un film presentano per me insomma come uno dei film principali su New York che è un film cult che piace a tutti che avranno visto tutti che è Kids di Larry Clark ex fotografo alla prima prova registica sceneggiato da Harmony Corrine interpretato da Claude Sivigny per cui il mondo hipster impazzisce per questo film perché ne ha tutte le caratteristiche io compresa è un film che anche non ho visto da tantissimo tempo l'ho visto un anno fa un anno e mezzo fa per una ricerca di lavoro mi sono molto appassionata soprattutto perché è sostanzialmente l'ho visto una rappresentazione del Signore delle Mosche uno dei miei libri preferiti nella New York degli anni 90 racconta la storia di un gruppo di ragazzini che si aggira nell'East Village per 24 ore fa sesso occasionale cerca di capire se due ragazze insomma si confrontano avendo avuto rapporti sessuali se hanno contratto l'AIDS o meno perché quelli erano gli anni chiaramente in cui l'AIDS era estremamente diffusa consumano crack vanno in giro con lo skate per Washington Square Park ecco da un punto di vista della rappresentazione poi anche urbana è è super interessante ed è super cult ci siamo andati tutti a vedere le location me compresa tra l'altro Liz Village è una delle mie parti preferite di New York ed è ambientato sostanzialmente in questa Washington Square che è adesso ve la faccio vedere una piazza molto bella è molto che io ho trovato estremamente così bella per noi bella e vivibile per noi italiani che abbiamo stare sbaccati nei giardini cosa che in America va a parte appunto i grossi parchi non si fa ed è famosa era famosa negli anni 90 per la sua frequentazione di skaters adesso un po' meno però ancora raccoglie molti molti ragazzi la cosa interessante di questo film vabbè chiaramente è il ritratto generazionale che ne fa chiaramente estremo da un certo punto di vista ma molto realistico un ritratto che tra l'altro nel cinema è stato ripreso a più mandate in qualche modo ma non con questa bellezza e con questa potenza di Dary Clark che era Monica Rinne che era giovanissima ha scritto questa sceneggiatura c'erano appunto come attrici principali una giovanissima che lo sevinì che era già una hit girl dell'East Village c'è un articolo sul New Yorker che ne fa un ritratto per gli appassionati molto interessante c'è anche Rosario Dawson che a mio parere era già stupenda a vent'anni che invece era un po' il controaltare di Closavigny che purtroppo è il personaggio che soffre di più è il personaggio più drammatico si ritroverà appunto ad aver contratto l'AIDS durante il suo primo rapporto sessuale Rosario Dawson invece è la ragazza che ha delle storie ha rapporti occasionali e la scampa sostanzialmente anche di Kids ci sarebbe da dire una marea di cose sicuramente appunto se andate a New York andatevi a fare un giro nell'East Village e respirerete parzialmente ancora quell'aria diciamo underground anche se adesso è molto è una parola abusata per New York perché purtroppo non è quella degli anni 90 per fortuna per certi versi purtroppo per altri io in tre minuti vorrei concludere con le due pillole sugli anni 2000 che tra l'altro offrono veramente tanto io non sono particolarmente non mi sono particolarmente appassionata negli anni 2000 ai film ambientati a New York almeno non per la visione di New York tranne sicuramente per il nuovissimo Marriage Story che è interessante da un punto di vista della narrazione della città perché la coppia protagonista meravigliosa di Scarlett Johansson e Adam Driver che tutti conosciamo vive la New York per cui tutti adesso impazziscono e per cui tutti ora ci si trasferiscono cioè la New York degli artisti indipendenti di Brooklyn in particolare di Park Slope che è una zona magnifica inarrivabile come affitti che si trova a Brooklyn diciamo più o meno sotto Williamsburg e loro sono una coppia di artisti lei è un'attrice lui è un regista di off-roadway che ama New York e vuole rimanere lì per continuare ad essere quell'artista indipendente che ha sempre desiderato la coppia si separa si sta separando e si separa proprio anche geograficamente lei va a Los Angeles a perseguire diciamo un sogno più mainstream di cinema hollywoodiano mentre lui insiste per rimanere a New York e quindi la cosa interessante è che in Marriage Story c'è una visione di New York come ancora la mecca del del mondo artistico indipendente e c'è Brooklyn perché ora per essere in qualche modo o fingere di essere un artista provare ad essere un artista ci si trasferisce a Brooklyn che non è più quella di Spike Lee tranne in alcune zone ma è appunto quella di Marriage Story è quella di Unorthodox se avete visto la serie è un posto completamente diverso per certi versi meno affascinante però in cui auguro a tutti di passare un periodo nella vita probabilmente un altro film a cui avevo pensato ma in no 20 secondi credo di non poterceva fare quindi non lo dirò casomai ne farò una seconda parte se sei interessato abbastanza ai 12 in questo momento vedo spettatori e vi saluto ciao speriamo di risentirci speriamo che vi siate un po' divertiti un po' Grazie a tutti.